Angelo Custode perché... Ah, sarà felice lui! Non solo, è un bravissimo ballerino, ma questo non c'è bisogno che lo dica io, ma è protettivo. È protettivo? È avvolgente, è affettuoso, è premuroso. Eccola qui la nostra block. Vediamo dove ci fermiamo. Ma lo strano sentore, appunto, che si arrivi ad... È stato proprio morbido, l'ha anche detto che trasmette... Tutto è possibile con la retuccia. Non so perché ancora secondo me Mario tutta sta dicendo e non l'ha mica colta. Un messaggio? Dai, fammi ricordo questa cosa, era con me e con Mara Veniere? Sì. Fammi vedere? Che belle queste cose che dici tua sorella. È vero, lo sento. E anche lei oggi ti ha mandato una cosa. Grazie, non c'è... Vabbè, grazie. Quindi lei sta per diventare di nuovo... Ci hai pensato? Sì. Famiglia molto unita, perché comunque per noi i carrisi vivono... Ma adesso io e te siamo un po'... Quando è? A gennaio? A gennaio. Ti piace? No, no, è un segno abbastanza... Mi sorella è capricorno. Decidi di riaprirla e ci sarà una frase che sarà un'illuminazione davvero per te. La verità rende liberi. A quel punto... È alzata. E ora scusami, visto che è diventata di famiglia anche Romina, visto che insomma aspetta il bambino con Stefano che è il nostro regista, io sulle note della tua canzone andrei da lei per salutare tutti voi che ci avete seguito oggi. Ok. C'è una base? Vorrei una. E un applauso speciale a Romina. Grazie. Ma per il tuo bebè, mica per te. Ma per lui. Ciao a tutti. Ciao a tutti.